Ciao a tutti, in questo video io ed Elisa abbiamo interpretato altri due personaggi di One Piece. Io ho scelto il simpaticissimo Buggy il Clown, mentre la mia bellissima amica Elisa ha realizzato il trucco della bellissima Nico Robin, uno dei personaggi principali del fumetto e quindi anche del cartone. Se vi interessa seguite il tutorial, ciao! Innanzitutto ho messo un fondotinta un po' scuro, poi con questa pasta bianca da viso ho coperto le sopracciglia perché è molto utile per fare questo perché è abbastanza solida e poi ho applicato sopra del fondotinta compatto. Poi ho fatto queste sopracciglia, insomma un po' strane, di questo personaggio. Comincio a fare un po' di contouring, insomma di pieghe della pelle e il tatuaggio fatto ad ossa incrociate che ha sulla fronte. Ho disegnato anche la sagoma degli occhi e adesso vado a riempire il tatuaggio di bianco e poi anche la parte bianca dell'occhio. Faccio i contorni, sempre questa parte insomma tatuata azzurra, le pupille con dell'eyeliner in gel. E ora comincio con la bocca, ho fatto la sagoma, ho riempito con una specie di rosso fucsia, quelle che devono essere le labbra e poi andrò a riempire l'interno della bocca di bianco. Qui ho fatto un po' di barba, insomma. Alla fine ho applicato un naso finto di carta stampata, semplicissima, e l'ho attaccato sul naso con un po' di colla. Questo è tutto, vi ringrazio, vi mando un bacio, ciao! Ciao!